ciao amici non fatevi trovare impreparati dal caldo rinfrescatevi con questa ricetta light e detox la granita è un dolce freddo tipico della cucina siciliana ma oggi la proporrò in una versione light detox e dimagrante se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ecco come si prepara granita di lime menta dolce freddo per 6 persone 500 ml di succo di lime 150 ml di kefir d'acqua o acqua frizzante 80 grammi di zucchero di canna integrale un rametto di menta fresca tempo di preparazione circa 20 minuti più tempo di congelamento 1 mescolare gli ingredienti scaldare una tazza di acqua e sciogliere lo zucchero di canna aggiungere il kefir poi il succo di lime 2 congelamento versare tutto in una terrina resistente al freddo e lasciare in congelatore per 5 6 ore 3 mescolare quando il liquido apparirà congelato sui bordi mescolare ripetere ogni ora per tutto il congelamento segreto speciale più si mescola più la consistenza della granita diventa fine e deliziosa ma questa è una ricetta super buona non solo detox 4 presentazione raschiare la granita dalla terrina e riempire i bicchieri infine guarnire i bicchieri con le foglie di menta tagliuzzate e servire subito i suoi pregi principali freschezza e leggerezza è una ricetta veloce e formidabile anche per gli ospiti per rompere il ghiaccio e dissetare con effetto detox per tutti mentre lime sono una copiata formidabile super rinfrescante drenante detossinante e digestiva proprietà degli ingredienti il lime è un detossinante naturale e regola il ph ha proprietà drenanti diuretiche antisettiche antibatteriche per l'intestino il kefir d'acqua è una bevanda fermentata ricca di probiotici utile per la salute di stomaco intestino e sistema immunitario ho spiegato come si fa in casa in questo video lo zucchero di canna integrale è un dolcificante che non subisce raffinazione chimica quindi l'indice glicemico e insulinico sono più bassi la menta è una pianta aromatica rinfrescante digestiva antifermentativa curiosità le origini della granita vengono fatte risalire alla dominazione araba in sicilia gli arabi portarono con sé la ricetta dello sherbet bevanda ghiacciata aromatizzata con succo di frutta o acqua di rose per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano e ora mangia e bevi consapevole e vivi meglio